La storia di Lucky Quando ero a casa dalla mia ultima avventura, non sapevo che Lucky stesse per imbarcarsi in un'avventura tutta sua. Dopo una ricerca spostante, l'avevo trovato. Il libro delle ere. Il libro era in grado di aprire le porte per nuovi e strani mondi. Aveva anche il potere di riscrivere la storia. Ma non ero l'unica a cercarlo. Era la temuta cucciolata. Una famiglia disfunzionale di coccolosi criminali, guidata dal padre Jinx. Danni il libro, guardiano, o me lo riprenderò da solo! La cucciolata avanzava e io tenevo duro, pronta a combattere. Ma venne fuori che il libro aveva tutt'altre idee. E d'un colpo, Lucky si sacrificò per salvarmi. Il mio fratellino. Lucky e la cucciolata erano stati portati dentro al libro e ai mondi che conteneva. e ora il futuro del nostro mondo era in pericolo. Lucky, se mi senti, adesso solo tu puoi fermarli. l'intensazione della cucciolata. no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti